Settimana della festa del libro. Per una settimana speciale occorre un libro speciale. Oggi vi racconterò la montagna di libri più alta del mondo. Questo libro ci è stato regalato dal papà e dalla mamma di Tommaso. Buon ascolto! Libro aperto. Lucas era convinto di essere nato per volare. Poteva passare ore e ore a guardare gli uccelli o a contemplare le scie lasciate dagli aerei che attraversavano il cielo lassù. Lucas provò a fabbricarsi un milione di ali, grandi, piccole, con le piume, con la carta o il cartone. Sperava che tutte queste invenzioni lo aiutassero a raggiungere il suo obiettivo. Volare! Ma nessuna aveva successo. Lucas non si arrendeva mai. Ogni anno scriveva una letterina a Babbo Natale chiedendogli. Ti prego, ti prego, ti prego Babbo Natale. Vorrei delle ali con cui volare per davvero. Ma per qualche ragione Babbo Natale si sbagliava sempre. E gli regalava ali giocattolo che non servivano a niente. Il giorno del suo compleanno, dopo aver soffiato le candeline sulla torta ed espresso il suo solito desiderio, la mamma gli disse «Ci sono molti altri modi per volare, Lucas» e pose un libro nelle sue mani. All'inizio Lucas non capì le sue parole, ma si sedette in giardino e iniziò a leggere. Amò così tanto la storia che la mamma gli aveva regalato che la finì tutta di un fiato. Quasi senza accorgersene iniziò un altro libro, poi un altro e un altro ancora. Era sbalordito da tutto quello che scopriva, apprendeva e immaginava. Divorava libri senza fermarsi. Più leggeva, più diventava veloce a farlo. Non riusciva a fare altrimenti. Finì presto tutti i racconti della libreria del salotto e anche quelli nella camera della sua sorellina. Alla fine si accorse che aveva riempito il giardino di libri. Fece una montagna e ci si sedette sopra, chiedendone ancora, «Ancora libri!». Tutti non facevano che regalargli libri. I suoi vicini, i vicini, gli amici dei vicini, la maestra di musica, il nonno e addirittura il panettiere della città. Così la sua montagna crebbe sempre di più e Lucas non scendeva più da lì, neppure per mangiare o dormire. Quando finì tutti i libri del vicinato, iniziò a ricevere furgoni pieni di volumi dalla biblioteca. La montagna cresceva e cresceva e Lucas diventò così famoso da andare anche al telegiornale. Cominciarono ad arrivare visitatori da ogni dove per vedere la montagna di libri più alta del mondo. Intanto Lucas, non curante di tutto ciò che lo circondava, continuava a leggere e a leggere e a leggere senza fermarsi mai. Ogni racconto gli permetteva di viaggiare in paesi lontani, di scoprire cose sorprendenti sulla storia, di conoscere nuovi personaggi o immaginare mondi che non esistevano nella realtà. Un giorno, all'improvviso, capì quello che la mamma aveva voluto dire. Lui non poteva volare, ma la sua immaginazione sì. Si rese conto che non aveva mai smesso di farlo da quando aveva iniziato a leggere il suo primo libro. In quel preciso momento desiderò scendere dalla sua montagna per raccontarlo alla mamma. Ma come? Ma come si fa a scendere dalla montagna di libri più alta del mondo? La sua immaginazione gli permise di spiccare il volo ancora una volta. Libro chiuso. Libro chiuso.